Cosa succede se dico al mio amico Sono tutta una salvatrice Ryder Che il nostro server di GTA 5 è stato posseduto da Barbie cattiva Oh! Cos'era? Cos'era Ryder? Quindi dal Barbie Shake, dal Grimash, che è tutta quella gentaglia lì No ma mi seguo, aiutami! L'ho fatto completamente impazzire Oh! Oh! Ma prima commentate quanto fa 2 più 4 Ragazzi mi sentite, sono io con questa voce Ok, l'ho tolta perché praticamente adesso faremo lo scherzo a Ryder E gli dirò che è posseduto tutto quanto da Grimash, Barbie Shake Tutte queste cose qua che ci sono ultimamente che a lui fanno molta paura Adesso è dentro della stanza Hello mio amico! Oh! Ciao! Ciao Dunis! Dimmi, dimmi, dimmi Ma io ti incontro sempre qua a Forza Uncudo Si vede che ti piacciono i misteri A me mi piacciono un botte i misteri, li adoro Dimmi questo amico mio Allora, devi sapere che oggi ci sono tanti di quei misteri che tu non puoi nemmeno immaginarti Tipo, questo? Che caspita è? Ma che cos'è questa cosa? Non lo so! Non ne ho la più pallida idea E quando tu parli basso io ti devo alzare Quindi alzati te senza che io mi alzi, capito? Eh, dove mi alzo? Sì, mi alzo, mi alzo Oh! Cos'era? 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 Oh mio Dio! No, 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 io scendo dalla macchina, mi butto dalla macchina No, 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 allora ti spiego che cos'è successo Perché io purtroppo so queste cose Quando ci sono queste nuove entità Entrano su GTA e ci fanno tanto male a noi Perché ci fanno tante cose brutte, capito? Sì, ma attento Guida bene perché ti vedo che fai un po' Fai attenzione, vediamo di non ammazzarci Ebbè, no, perché sono posseduto da Grimash Shake Non so se lo conosci Come sei posseduto? Allora, tu conosci chi è Grimash Shake? Cioè, cos'è Grimash Shake? No, vero? No, non ho sentito parlare Ma non so nulla Te lo spiego Praticamente il Grimash Shake è questa cosa Questa bevanda buonissima tecnicamente Che è stata inventata da McDonald's E praticamente ogni volta che le persone lo bevono su internet Hai visto, no? Qualche mio video che tipo muoiono in circostanze molto strane Almeno secondo i video Sì, ho visto, ho visto E porca puzzarda, io sto a paura di questa cosa E tutti quanti, tutti noi Tutti quelli che mi seguono sono straspaventati giustamente Ma tranquilli, tecnicamente Da quel che so Cioè, non lo so Forse magari potrebbe non essere niente di strano Però non lo so, adesso vediamo perché Ci sono tante cose strane al mondo sicuramente, Raider Tipo sicuramente i fantasmi Oh no, che cos'era? No, no, Raider Raider, aiuto! Credo che ci sia stato un problema nella falla del Maggi Bidi Capito? Oh, rispondi quando finisco di parlare però Porca puzzarda! Sono rimasto scioccato Ma che cos'era quel rumore, quel verso? Lo so che sei rimasto scioccato Ma devi essere responsivo Altrimenti io qua Mi impazzisco Mi viene l'attacco di panico e piango Ma calma, calma Stiamo andando in panico, calma Sai perché succede questo? Perché purtroppo il nostro server di GTA 5 è stato posseduto dal Grimes È SHAKE! Ancora, anche lui adesso Sì! Porca puzzarda Ho stra paura, raga Cioè, volevo dire Raider Scusami Che sono abituato a YouTube E sai, l'abitudine Senti ma Adesso Facciamo così Cerchiamo di fermarci Perché secondo me il Grimes Potrebbe arrivare da un momento all'altro E non vorrei mai Che potesse fermarsi qua Oh! Allora, attenzione! Non ho fatto bene a rompere un cartello Però non importa Allora, senti Cosa ti aspetti da questo Grimes Shake? È che magari non mi uccida No, invece ti ucciderà E sai perché? Perché è talmente tanto brutto Tu devi immaginarti questa creatura viola Orribile Piena di ketchup viola però E tutta quanta posseduta Sì, sì, sì Sarà orribile Però adesso guarda Praticamente Se tu ascolti Ah, Raider! Oh! Oh, chi è? Che cosa, che cos'è? Sono il Grimes Come il Grimes? Dove sei? Esci fuori Il tuo computer Come il mio computer? Dunice, che cosa è com... Dunice mi ha fatto impossessare il computer da Grimes Shake Aiuto! Dunice! Aiuto! No, Raider, cos'è successo? Ma cosa... Cosa sei diventato? No, in che senso cosa sono diventato? Ma perché ti vede una signorina? No, in che senso... Io sono sempre Dunice Cosa c'è? Ma io non sono nemmeno vicino a te Io adesso sono stato teletrasportato Vicino all'aeroporto di Smingo E dove sei allora? Com'è possibile? Non lo so...